Benvenuti a questa nuova puntata del podcast di MMA Talks, terza puntata con doppi eventi dal commentario nel weekend, un evento brasiliano in Brasile per la UFC, un altro evento invece negli Stati Uniti per Bellator e Trambecard di rilievo all'interno delle principali promotion di Mixed Martial Arts negli Stati Uniti, con match interessanti, non tantissimi, performance notevoli, abbastanza numerose, comunque tante storie e argomenti di cui parlare. E ovviamente insieme a voi, insomma, insieme a me, Stefano Summa, c'è a commentare questi eventi e a rispondere successivamente alle vostre domande. Giovanni, buongiorno, che saluto. Ciao Giovanni. Ciao Stefano, salve a tutti. Poi parleremo magari anche delle novità di questo podcast, una in realtà la state già vivendo questa novità se ci state ascoltando dai vari servizi di podcast, per ascoltare podcast come iTunes, quindi è una spiegazione postuma, però volevo un attimo spiegarvi, insomma, come si evolverà, insomma, il feed del vostro podcast, del podcast nelle prossime settimane e magari avremo anche l'occasione di parlare di alcuni articoli che ha fatto lo stesso Giovanni per l'ultimo pomo o altri progetti, insomma, che ci potrà anticipare. Intanto però partiamo, entriamo nel vivo della discussione degli eventi del weekend appena passato e partiamo ovviamente da UFC 237 che è andato in scena nella notata di sabato da Rio de Janeiro, dalla Jeunesse Arena di Rio de Janeiro. Nel evento abbiamo assistito a un cambio di titolo per quanto riguarda la categoria strawweight femminile con la vittoria di Jessica Andrade, che ha sconfitto Rosna Mayunas con un KO clamoroso, insomma, abbastanza inatteso, un vero e proprio slam che ha messo fuori la campionessa uscente Tag Rose al secondo round, fermando l'orologio esattamente a 2 minuti e 58 secondi. Un match che, si può dire, ha contenuto due match al suo interno con un filo rosso che riguarda appunto la sequenza finale, andando per ordine, possiamo dire, il primo round, il primo match, per così dire, assolutamente dominato a Tag Rose, perfetta soprattutto nell'ambito dello striking, nel modo in cui ha gestito l'aggressività, gli attacchi frontali, la pressione di Andrade con ottimi movimenti del footwork, in and out con tempistiche ineccepibili e una varietà di colpi tra jab, diretti, cross, eccezionale. Buona difesa da un tentativo di takedown di single leg di Andrade con una presa della Kimura che entrerà poi in gioco anche nel successivo round e una ginocchiata con un knockdown che faceva presagire una serata molto, molto complessa per la sua contender all'interno della gabbia, Andrade. Nel secondo round, insomma, uno sviluppo abbastanza simile con un Andrade che comincia, continua, cerca di alzare ulteriormente la pressione e comincia ad andare a segno con dei calci alle gambe e con alcuni pugni, si ricrea però, appunto, parlavamo di un filo rosso, quella situazione in cui Andrade cerca di mettere giù Rose lungo gabbia con un single leg, Rosana Mayunas che si impunta dal punto di vista difensivo a replicare con una Kimura, un tentativo di Kimura da in piedi e se nel primo caso questa difesa aveva avuto profitto, gli aveva evitato, insomma, grave conseguenze provocate da parte di Andrade, nel secondo caso, invece, questa difesa le si è ritorta contro, subendo un qualche cosa di abbastanza inaspettato, comunque non facilmente difendibile, come un netto slam a scanso di equivoci assolutamente regolari, sia per quanto riguarda l'angolatura dello stesso slam, che non era nella cosiddetta verticalizzazione 12-6, che è quella, appunto, rese illegale, e che di fatto nella storia dell'MMA, perlomeno quelle di Alto Ridevo, non si è mai visto, insomma, non si è mai avuto una squalifica per uno slam, che si ricordi, con verticalizzazione 12-6, e assolutamente regolare anche per il fatto svidenziato da Big John McCarthy su Twitter, il fatto che lo slam è stata una conseguenza, indiretta conseguenza, della difesa di Yama Yunas, se, diciamo, interpretiamo il pensiero, se la Yama Yunas non si fosse difesa in questo modo con la Kimura, probabilmente lo slam non sarebbe capitato, comunque non si sarebbe sviluppata la dinamica che avrebbe portato allo slam che l'ha messa KO. Giovanni, prima di parlare eventualmente anche dell'incontro, nello specifico, delle dichiarazioni successive della Yama Yunas, volevo appunto riprendere questo filo rosso, questa situazione ne era avvicinato che, insomma, la Nama Yunas, ricordo nelle varie anteprime lette prima del match, una delle critiche, insomma, che le veniva evidenziata, una delle possibili punti critici in vista di questo incontro che veniva evidenziata da alcuni analisti era il fatto che anche questa ROS, insomma, assolutamente maturata e assolutamente di elite, per quanto riguarda non solo le MMA femminili, ma per certi aspetti anche le MMA in generale, soprattutto nell'ambito del striking, aveva ancora qualche difetto, soprattutto nella tendenza a chiudersi nei momenti di difficoltà in clinch, un qualche cosa che con determinate fighter, e in particolare Andrade, questo poteva pagarlo. In questo caso non si è verificata propriamente la situazione dei clinici, però si è verificato quel caso in cui la Nama Yunas, affidatasi inizialmente a una certa difesa con la Kimura, l'ha ripetuta successivamente e questo, anche se ovviamente questo non se lo immaginava, ma però questa medesima difesa le si è ritortata contro, sottovalutando magari in maniera abbastanza ingenua, ma neppure troppo, la potenza dell'Andrade che al secondo tentativo è riuscita ad alzarla e a sbatterla per terra. Insomma, nessuno vuole togliere ovviamente, ed è molto difficile farlo, i meriti per l'ottimo primo round disputato da Nama Yunas, però questo aspetto potrebbe essere una macchia, insomma, rispetto alla sua prestazione, oppure ritieni che sostanzialmente la dinamica finale sia stata assolutamente fortuita e non ha una responsabilità anche diretta da parte di Tag Rose? Ma io quando ho parlato del match, prima nel pre-card, dove solitamente arrivo quelle che possono essere le chiave per la vittoria delle arete, in questo caso coinvolte, avevo descritto appunto la ricerca della medio-lunga distanza per Rosna Mayunas, colpire dalla distanza ed eventualmente in counter-striking, mentre l'accorciamento da parte appunto di Jessica Andrade, la ricerca forsennata del clinch, si sono praticamente evidenziate tutte e due le situazioni, ci sono state, come hai detto giustamente tu, due match in uno praticamente, dove nel primo round la Nama Yunas è stata praticamente priva di difetti, mentre la Andrade ha scoperto tutti i suoi praticamente, quindi quando non riesce a trovare subito le distanze giuste rischia tanto anche lei, nonostante abbia una delle mandibole più resistenti nella categoria degli strawweight, lei era un peso gallo, faceva discretamente bene anche lì, era sottodimensionata, mentre qui risulta essere non sovradimensionata, però sicuramente molto più muscolare rispetto alle sue avversarie, il fatto che lei riesca a sviluppare quel ground and pound così potente, quei takedown esplosivi, anche questa eventuale slam, che comunque non è la prima volta che prova a fare, ha slammato anche altri suoi avversari, ci ha provato con Giovanna Janjajek. E' proprio, allora, parliamo di due fighter che sono diametralmente opposte dal punto di vista dello stile, quindi è chiaro che il punto forte di una è molto superiore rispetto al punto debole dell'altra, ecco, quindi se il match va a giocarsi in una determinata area, una delle due avrà più vantaggi in maniera abbastanza netta, ecco. Quindi, secondo me, per rispondere alla tua domanda, non è stato tanto un limite di eroso quanto una eventualità che ne è riuscita tanto a controllare, perché in un match di cinque riprese, se lei non riesce a trovare magari il KO nei primi cinque minuti, o sette, se consideriamo magari la prima metà del secondo round, è chiaro che prima o poi, se Jessica Andrade non va a KO, si ritroverà a poter accorciare la distanza, troverà eventualmente le misure e riuscirà ad entrare in clinch. Ecco, da lì si è giocata la sua carta vincente, anche precedentemente ci aveva provato avendo un successo diverso, non trovandolo. Poi con quella Kimura Grip, e quindi con le braccia attaccate basse da parte della Nama Yunas, ha trovato la testa scoperta e è andata appunto ad impattare lì. Io non credo che la Andrade cercasse di schiacciare la testa, quanto piuttosto una slam esplosiva, che vada a colpire magari anche le spalle, la schiena, vada a mettere comunque, cercava il knockout chiaramente. È una slam molto potente, però non so se poi tutte queste polemiche si sono venute a creare, secondo me sono abbastanza sterili, perché non hanno motivo di esistere, visto anche appunto la difesa, come hai detto tu, da parte della Nama Yunas, che non avrebbe creato poi la condizione tale per cui lei si schiantasse in una determinata maniera. Quindi secondo me, senza alcuna polemica, è stata una vittoria che forse ha goduto di minori momenti da parte della nuova campionessa, però dei momenti giusti, azzeccati, rifiniti al meglio. Sì, ci sono tre aspetti, diciamo, rispetto al... Più che polemica, forse un senso di dispiacere, insomma, espresso ad alcuni per l'esito di questo incontro. Il primo è che slam del genere non se ne vedono spesso. In realtà, recentemente, sarà stato un tentativo, comunque qualche cosa molto vicino, nel match con Lohler e Askren, però si deve ricorrere, insomma, allo storico, sia tra UFC, sia tra altre promotion. Penso, per esempio, al Pride, di match concluse con una finale del genere. Bisogna andare molto indietro nel tempo, insomma, i casi di Ortiz, Hux e Newton. Sì, quello mi viene in mente. Random Man, Quinton Jackson e Minova Mann, insomma... Quinton Jackson e Riccardo Arona. Riccardo Arona, sì. Giusto, giusto. Essendoci, insomma, varie generazioni di fan, alcuni non hanno neanche idea di chi siano questi nomi, o comunque non si ricordano, magari, o comunque una vaga percezione di altri finali del genere, quindi vedere una cosa del genere, vendendola per la prima volta in pressione. L'altro aspetto è appunto quello di cui abbiamo appena parlato, insomma, il fatto che il match stava prendendo una certa piega e all'improvviso ne prende un'altra, e per una fan di Rosanna Mayunas, questo è un qualche cosa che lascia la mare in bocca, ed è anche comprensibile un po' come, insomma, avviene in altri sport, questi ribaltamenti che puniscono magari, oltremodo rispetto allo sviluppo di una contesa. E l'altro aspetto, e qui magari arriviamo, insomma, al post-match, è il fatto che Rosanna Mayunas sia una lottatrice molto popolare, insomma, che ha raccolto un certo seguito di fan per la sua storia, per la sua personalità, storia e personalità che sono emerse. In realtà già durante la Fight Week c'erano stati i primi indizi, insomma, aveva già dato il segno, no? L'ha lasciato qualche, sparsa qualche indizio nelle varie dichiarazioni sul fatto che questa carriera, soprattutto questo peso da campionessa, non facesse propriamente per lei, insomma, per la sua sensibilità. Questo poi ovviamente esploso poi nel post-match con appunto dichiarazioni che è abbastanza dubitative, perlomeno nel medio, breve e medio termine, la possibilità di avere un rematch che sicuramente le sarebbe dovuto. Questo penso che tutti assolutamente siano d'accordo, ma anche nel lungo termine nella sua permanenza dello sport. Ti chiedo magari appunto un commento su questa cosa, in realtà già in altri episodi di M&M Talks abbiamo già parlato parlando del caso di Rory McDonald. Sembra una situazione abbastanza simile, anche se ovviamente con sviluppi diversi, questa stanchezza, insomma, il peso di questo sport è eventualmente nel fatto di essere campione che consuma anche atleti assolutamente giovanissimi, appunto come sono Rory e Rose. E l'altra domanda che ti faccio è, tenendo appunto la parte Tag Rose dallo scenario titolato che si è venuto a creare, insomma, con la vittoria con Landrad, tu come procederesti, insomma, se tu fossi matchmaker, in linea di massima più o meno i nomi che circolano sono Tatiana Suarez che sarà impegnata a UFC 238, se non ricordo male, contro Nina Ansaroff, Waterson che appunto viene da una streccia positiva ed è poi anche un'atleta assistita da WME Endeavour, quindi questo sicuramente non fa male per le sue chance titolate, o eventualmente un rientro, insomma, in questo scenario titolato della Jan Jacek che vanta una vittoria da campionessa contro Landrad. La terza che hai detto, sicuramente, io ho pensato subitissimo, appena hanno alzato il braccio dell'Andrad, ho pensato subito all'Jan Jacek, ma per forza di cose, perché è anche l'ultima fighter, no? Se non erro a vantare una vittoria su Andrad, ce l'ho fatto sui cinque round, l'ho fatto in maniera molto intelligente, con un continuo movimento, e l'ho fatto in maniera convincente soprattutto, quindi io credo che la chance dovrebbe andare a lei, con poi eventualmente al rientro di Rosna Mayunas, se UFC deciderà che è il caso di darle l'eventuale rimatch, glielo ridarà, però sicuramente non si può aspettare il rientro immediato della Mayunas, anche perché in base a quello che ha fatto capire proprio lei, probabilmente si prenderà del tempo in questo momento, dipende anche un po' dalle sue scelte, perché secondo me anche appunto la sua popolarità, anche a me piace l'Anna Mayunas, sia come persona che come fighter, dipende anche da cosa deciderà lei, se mirerà a rapido rientro, cosa che non ha dato impressione di volere, ecco, sicuramente daranno a lei l'eventuale rimatch, poi Joanna comunque non ha un match programmato, ancora potrebbe essere appunto la prima opzione di UFC. Sì, probabilmente vedendo un attimo anche come si comporterà la Suarez, che forse sembra un pochino più favorita, però ha già un match fissato, eventualmente se ci fossero le opportunità, una chance magari per Larian Cechek potrebbe essere nei piani. Passando a un altro incontro, conclusosi anzitempo in maniera abbastanza burascosa da questo punto di vista, per un infortunio, ma con tonalità ancora più tristi, insomma, per quanto riguarda una delle leggende di questo sport del MMA, passiamo al come l'evento della serata che ha visto Jared Cannonier configgere Anderson Silva per TKO per un infortunio alla gamba al primo round dopo 4 minuti e 47 secondi, qui, anche in questo caso, insomma, un finale di match improvviso, insomma, per un infortunio apparsa anche abbastanza grave, perlomeno nell'immediato dalle urla dello Spider, anche se poi, insomma, è notizia degli ultimi giorni, insomma, in realtà non ci sono state per fortuna gravi conseguenze con, insomma, rotture di legamenti e cose del genere, sono state solo, a quanto pare, insomma, delle lesioni, insomma, dolorose, ma non, insomma, non punto rottura di legamenti che sarebbe stato assolutamente tombale, insomma, per il proseguo della carriera del brasiliano, non è stato un finale in realtà imprevedibile nel senso che Cannonier ha lavorato per tutta la durata del primo round, insomma, sulle gambe, mettendosene qualche pugno, però è stato il lavoro sui leg kick che comunque ha assondato il campo per questo eventuale finale, vedendo appunto anche Silva che non ha difeso molti, non ha fatto dei check su diversi dei calci che ci sono stati sferati da Cannonier, sulla reazione post-match, insomma, c'è un po' di discussione soprattutto sui media americani, no? Delle reazioni dei brasiliani e qui cerchiamo di fare un attimo una parentesi oltre all'MMA comunque sullo sport si vede la grande differenza nel modo di vivere lo sport tra gli americani eventualmente volendo allargare il discorso anche gli anglosassoni tenendo in conto anche l'inglese anche se forse non è propriamente giusto riguarda propriamente solo gli americani e i latini sia quelli d'Europa che quelli diciamo sudamericani che sono un po' dei latini anche se di altra alto emisfero sul modo di vivere lo sport nel senso che questo scandalo del fatto che i brasiliani fischiassero Cannonier per il finale del match anche se Cannonier non ha fatto assolutamente un animale ha fatto semplicemente il suo lavoro Cannonier che non l'ha presa bene ovviamente giustamente dal suo punto di vista non l'ha presa bene mi sorprende un po' sono un po' forse gli americani comunque la critica americana la stampa americana non è abituata al vero e proprio tifo da stadio comunque tifo sportivo intenso che a volte non ragiona insomma sull'effettivo senso dell'atto sportivo e noi siamo assolutamente abituati a questo nel senso che se noi vediamo ha fatto magari certe eccezioni per veri e propri fenomeni come posso pensare non so Cristiano Ronaldo che fa la rovesciata allo stadium lo stadium che gli fa le applausi solitamente anche il fenomeno che fa la tripletta alla fine viene fischiato insomma l'elemento tifo è superiore anche all'apprezzamento del gesto atletico comunque all'accettazione del verdetto su questo non vedo questo grandissimo scandalo vedo appunto questa grande differenza nel modo di vivere lo sport tra gli americani e i latini in senso esteso tra europei e sudamericani tu su questo match insomma in realtà non c'è tantissimo da dire se non appunto aggiungere un altro capitolo nella discesa di Anderson Silva che impressione hai avuto che commenti hai? ma tristezza in generale per questo voler a tutti i costi proseguire questo viaggio da parte di Anderson Silva per quello che ha regalato allo sport non sarebbe nemmeno criticabile in nessun caso però il suo epilogo è stato davvero davvero triste negli ultimi dieci incontri praticamente ne ha vinto solo uno non riesco negli ultimi otto incontri se non sbaglio poi se non ho sbaglio negli otto incontri ne ha vinti uno e c'è stato uno contest contro Nick Diaz che aveva vinto contro Nick Diaz però sono stati trovati positivi entrambi Whiteman in poi una sola vittoria peraltro era anche abbastanza discutibile se non ricordo male contro Derek Johnson per decisione unanime ci sarebbe potuta anche stare la sconfitta anche in quel caso sì 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 secondo me anche io direi che da Chris Whiteman lui è proprio diventato un altro fighter tira per non perdere prova a non perdere poi nella maggior parte dei casi nonostante non sia mai stato comunque finalizzato prima di questa volta dal dopo Whiteman aveva messo su a parte secondo me con Israella Desania che ha fatto una prestazione degna di questo nome aveva messo su delle prestazioni appena appena sufficienti per strappare gli applausi un ritmo bassissimo la precisione che sicuramente non è più quella di un tempo la potenza di impatto che sicuramente non è più quella di un tempo un gran match con Michael Bisping che vide il Conte prevalere tutti e due sul viale del tramonto comunque Cannonier da quando è entrato nei medi sembra aver trovato la sua dimensione ideale la sua categoria di peso ideale ha fatto praticamente qualsiasi peso sopra i medi quando è sceso nei medi ha trovato quella che sembra essere la sua categoria di peso ha sorpreso tutti contro David Branch ora ha battuto Anderson Silva avrebbe dovuto combattere contro Alessio Di Chirico e sarà un match che magari mi auguro di vedere in futuro anche se Cannonier ha dimostrato di essere di un livello veramente alto in questa categoria di peso bisogna vedere adesso con lo star power fra virgolette acquisito quello che deciderà UFC lui comunque durante il finale ha alzato le braccia ha cominciato a girare per la gabbia quando ha sentito i fischi e i bode del pubblico brasiliano ha fatto il gesto dell'orecchio come a dire non vi sento fate più forte è lì che il pubblico un po' si è amareggiato si è arrabbiato e come hai detto tu sono latini lo sport è una forma di religione per loro un po' come quasi lo è anche qui in Italia però in maniera più contenuta in maniera diciamo che magari a molti di noi farebbe bene sentir dire come civilizzata ma invece no è solo credo sia una forma di sfogo emozionale ecco quello del pubblico a degli eventi magari non definisce di per sé la passione ecco di ognuno però vedere uscire il lato animale anche in uno sport del genere che ovviamente già ha come componente principale la violenza in gabbia è strano e magari è percepito in maniera un po' troppo eccessiva però secondo me è assolutamente normale cioè basti pensare ai tifosi da calcio qui in Italia a quelli in Turchia per esempio certo c'è anche da dire che insomma questo pubblico aveva già vissuto in precedenza una delusione anche se in maniera forse meno traumatica nel match precedente che vedeva appunto uno dei fighter più apprezzati dal pubblico di Rio in generale dal pubblico brasiliano parlando di José Aldo che ha mutolito proprio da quel momento esatto insomma già quello non ha aiutato nella sconfitta per mano di Alexander Volkanovski per decisioni unanime 30-27 30-27 30-27 risultato direi assolutamente indiscutibile prestazione solida magari senza grandi picchi comunque con tanta tanta sostanza da parte dell'austradiano che dovrebbe lanciarsi sicuramente per una futura title shot anche se non sarà immediata perché appunto notizia anche questa degli ultimi giorni il prossimo avversario di Holloway di Max Holloway sarà Frankie Edgar comunque sicuramente chi uscirà vincitore in ogni caso da quel match dovrà vedersela molto probabilmente con l'austradiano che è il primo uomo che riesce a battere i punti di José Aldo praticamente esatto adesso il brasiliano aveva perso soltanto per capo sottomissione Volkanovski è il terzo uomo a battere José Aldo insieme a Conor McGregor e Max Holloway insomma non è necessariamente cosa da poco c'è da dire però e qui introduciamo sì sì aveva perso già Aldo in Jungle Fight però si trattava di una scontra di un altro Aldo di un altro Aldo volevo appunto introdurre questo aspetto se l'Aldo battuto da Conor battuto da Holloway era un certo tipo di Aldo l'Aldo battuto da Volkanovski senza nulla togliere insomma alla solidità di Volkanovski è stato un Aldo ancora un altro Aldo un Aldo apparso in parbola discendente non tanto propriamente da un punto di vista fisico però motivazionale mentale esatto cioè si è visto proprio un Aldo che non è stanco mentalmente mi è parso che è proceduto insomma con una marcia molto bassa come se non riuscisse ad alzare le marce non avesse la forza prima mentale che ancora fisica di alzare le marce non è molto difficile da spiegare però se tu dovessi insomma spiegare i motivi e eventualmente analizzare in che cosa è venuto a mancare Aldo in questo match ma nella fame sicuramente nella ricerca forse nata di una distanza favorevole dalla quale colpire Volkanovski Volkanovski è riuscito praticamente a fare quello che ha voluto non ha strapazzato Aldo in nessun momento però lo ha quasi sempre superato ecco sia nei colpi che ha messo a segno sia nella solidità ecco dei colpi messi a segno poi nel corso dell'ultimo round sembrava proprio alle ultime battute cercare il colpo definitivo del K.O. che non è mai arrivato ma non il colpo del K.O. in sé quanto proprio il tentativo ecco del colpo da K.O. in termini di dimensioni Volkanovski forse è più muscolare ma Aldo è più grande fisicamente di lui in gabbia si vedeva non ho idea poi magari non ha fatto uso dei suoi low kick per paura di un eventuale takedown però dal punto di vista del clinch mi è parso discretamente a suo agio nelle prime battute quando anche grazie a De Ganderuk è riuscito a prendere la schiena di Volkanovski nei primi due round cioè ha raccontato anche la storia di tre storie diverse una per ogni round perché il primo mi è sembrato assolutamente alla pari anche se si dà il 10 a 9 a Volkanovski non ho visto un dominio o una sfacciata superiorità ecco cosa che invece si è verificata poi nel corso degli ultimi due round non appena Volkanovski è riuscito a prendere le misure si è imposto in maniera piuttosto decisa e secondo me questa sconfitta per decisione da parte di Aldo deve far riflettere sul fighter perché se è vero che con le prestazioni incredibili su Jeremy Stephens e Renato Moicano sembrava essere rinato in questa mi è sembrato una candela che si spegne alle ultime battute cioè sicuramente Volkanovski è un fighter estremamente qualitativo che non fa combattere un po' nessuno come vuole ricordiamo che nell'ultimo match aveva ha messo KO Chad Mendes in maniera relativamente semplice quindi io credo che comunque anche la presenza in gabbia anche il modo di stare in gabbia il tipo di guardia l'aver trovato la distanza quasi da subito fa sì che in molti non riescano ad esprimere come vogliono sia il proprio stile che il proprio potenziale contro Volkanovski che fa fede al suo soprannome The Great ha mostrato di essere assolutamente un fighter d'elite nella categoria delle 145 merita la prossima chance titolata dopo appunto quella fra Holloway e che è stata data a Frankie Edgar ecco si diceva appunto di fighter nello specifico brasiliani o comunque fighter di leggende anche di questo sport o comunque fighter veterani che hanno un po' segnato il passo in questa serata di Rio partendo appunto da questo spunto per introdurci al resto della card degli altri due match della main card e la lunga sequela di Pernims ti volevo chiedere insomma quali sono stati i match o le performance che ti hanno colpito di più io posso dire che sono stato impressionato da due fighter nello specifico uno un piccolo pupino personale per quanto riguarda insomma l'universo dei vari fighter brasiliani che è un Warley Alves esatto è veramente un fighter che uscendo dalla sua stagione del Tuff brasiliano sembrava uno di quelli forse uno dei pochi in realtà che potesse insomma desse l'impressione di poter puntare a un titolo UFC essere veramente un contender a quegli alti livelli della sua categoria di peso qualcosa si è perso per strada però ciò che ha perso in realtà non gli ha fatto perdere comunque un certo status di fighter che appena rimette insieme tutti i suoi aspetti può veramente dire la sua ad alti livelli nella divisione welter tenendo conto che è anche insomma del 91 quindi ancora molto molto giovane 28 anni per lo meno insomma per dei standard dei fighter UFC ancora qualche anno per raggiungere insomma un certo livello ce l'ha ancora la vittoria contro Moraes è stata assolutamente indiscutibile non solo per il fatto che è arrivata per un KO per un pugno assolutamente letale insomma che ha steso il suo connazionale ma anche per insomma il suo comportamento lungo la contesa l'ottimo utilizzo dei calci che hanno brutalizzato la gamba la leading leg la gamba di riferimento insomma in avanzamento di Sergio Moraes la sinistra che è stata ridotta a un salame insomma per il colore che ha assunto i numerosi calci che gli sono stati inflitti da Alves altra lottatrice brasiliano in questo caso una lottatrice che ha impressionato molto è stata appunto all'inizio dell'evento sto parlando di Viviane Araujo che in short notice salendo di ben due categorie rispetto alla sua abituale standard di fighter è riuscita a sconfiggere al terzo round Talita Bernardo con un pugno insomma una performance impressionante non solo appunto per il fatto che sia arrivata con una conclusione definitiva ma anche per ciò che ciò che l'ha preceduto insomma la conclusione finale con una leggerezza di movimenti in and out nello striking assolutamente impressionante comunque notevoli per una fighter calata in questa realtà sia all'improvviso Talita Bernardo non veramente ci ha capito molto molto poco questa Viviane Araujo probabilmente trovandosi in una categoria insomma un pochino più a suo a lei più adatta Bantamweight in questo caso è stata un po' una soluzione di risulta insomma per salvare il matchmaking della UFC e avere questa opportunità lei ha infatti promesso di se non sbaglio di voler combattere a strawweight insomma può essere un riferimento può essere una fighter che può dire la sua entrata così con un pertugio in UFC può allargarsi e eventualmente risalire i ranking per quanto riguarda invece Giovanni di quanto hai visto comunque di quanto hai letto cosa ti ha impressionato di più a me sì io anche avrei detto Worley Alves senza alcun dubbio a parte aver dominato Moraes che non ho capito come ha fatto a rimanere in piedi per tre riprese prendendo quelle botte perché è una roba disumana ma comunque nel corso della sua carriera come hai giustamente detto tu fino a Colby Covington è stato perfetto e sembrava poter essere veramente uno dei prossimi contendenti invece poi in maniera forse un po' inaspettata ha perso contro Brian Barbarena ha perso anche contro Kamaru Usman ricordo bene quel match cercando di girare sempre all'esterno di Usman con Usman che lo ha pressato e comunque gli ha fatto vedere gli ha fatto passare un brutto quarto d'ora in ogni caso si è ripreso alla grande secondo me le sconfitte che pesano di più sul suo palmarès sono quelle contro James Krause e Barbarena appunto ma con un risultato diverso anche solo in quei match sicuramente staremmo parlando di un top 5 immagino senza troppi problemi adesso bisognerà vedere UFC che piani ha per lui perché se appunto fino a contro Covington parliamo di vittorie importanti poi ha affrontato due avversari uno Barbarena che non è sicuramente fra i migliori di categoria anche se è molto versatile è abbastanza ostivo come fighter ha poi affrontato Kamaru Usman che è l'attuale campione di categoria e ci sta assolutamente una sconfitta contro Usman ma dopo altre due vittorie quella sconfitta forse con Krause l'ha un po' ridimensionato adesso è tornato alla vittoria con un bellissimo K-O su Moraes dopo un dominio totale e quindi vedremo vedremo chi sarà il suo prossimo avversario immagino un top 10 comunque dopo una prestazione del genere come altro fighter sono stato piacevolmente sorpreso dal ritmo che hanno tenuto Clay Guida e BJ Penn più Clay Guida che BJ Penn però già il fatto di non essere caduto di aver tenuto tanta determinazione ormai ci si aspetta tutti un tipo di prestazione da parte di BJ Penn sappiamo che non è più il Penn di un tempo ha collezionato un altro record negativo che è la serie più lunga di sconfitte in UFC ce l'ha lui con ben sette sconfitte consecutive prima del pareggio contro John Fitch che ormai appartiene a lontano 2011 quindi non saprei non so perché continui a combattere macchiando una legacy così importante d'altra parte una delle domande che ci sono giunte riguarda appunto nello specifico BJ Penn questo aspetto cito domanda e chi l'ha fatta Daniele Ferrari che appunto ci chiede cosa ne pensate dell'attuale carriere di BJ Penn si sta rovinando la reputazione la legacy come la definivi tu per dei match che non vanno neanche nella main card ma negli early prelims dove solo i fan più accord solo i fan più accord seguono queste card è veramente messo così male economicamente io facendo un attimo mente locale insomma sugli ultimi anni di BJ Penn dentro fuori la gabbia più che una questione economica nel suo caso credo che sia una questione motivazionale e direi quasi di ragione di vita nel senso che senza lo stimolo per allenarsi e combattere ovviamente questi sono giudizi da esterno valutando ciò che emerge non conosce veramente BJ Penn quindi sono da prendere ovviamente con le pinze però possono dare un'interpretazione proviamoci almeno credo che senza appunto questo stimolo a sentirsi ancora un fighter di MMA in generale non necessariamente solo di UFC ma fighter proprio di MMA in generale si senta BJ Penn si sente abbastanza perso insomma non abbia non abbia altro nella sua vita che lo soddisfi e lo riempa al punto tale da fargli abbandonare una carriera in cui a questo punto ormai veramente non ha più altro da dire ha solo rovinare perlomeno a livello d'immagine quanto costruito in precedenza e tenendo conto anche i vari episodi di colluttazioni comunque che hanno coinvolto interventi della polizia nel suo recente passato alcuni in realtà insomma abbastanza caduti nel vuoto perlomeno dal punto di vista di conseguenze legali senza accuse specifiche che gli sono state poi mosse però insomma vari episodi comunque l'hanno coinvolto l'hanno reso noto alle cronache per fatti fuori dalla gabbia appunto c'è questa difficoltà da parte sua a sfogare questa sua suo spirito competitivo che non trovando magari non avendo questo sbocco sportivo rischia poi di rendere protagonista di fatti molto gravi fatti molto gravi che appunto ovviamente alleggerli come dicono i vericani con il condizionale d'obbligo hanno coinvolto anche la sosterra privata in una casa appunto prima del match varie testate nello specifico M&G anche che è stata praticamente boicottata da Penn appunto per questo motivo durante la fight week ha riportato insomma di abusi casalinghi abusi di vario tipo nell'ambito familiare che sono stati riportati denunciati dalla moglie insomma dalla madre dei figli di BJ Penn non so se stanno ancora assieme dopo questo caso però da una compagna di vita di BJ Penn fatti molto gravi con questioni anche di droga comunque fatti molto seri che aggiunge c'è anche un elemento quello della annessa questione della custodia dei figli e qui rientra magari l'aspetto economico perché a seconda un po' di come andrà a finire insomma questa vicenda dal punto di vista legale se entra in gioco poi anche la questione della custodia dei figli alla fine i soldi entrano in gioco perché ovviamente se eventualmente il giudice dovesse dare ragione alla madre dei figli di Penn e dovesse disporre insomma al mantenimento poi Penn questi soldi da qualche parte li dovrà trovare magari lui ha abbandonato in teoria insomma per quel che sappiamo dai guadagni resi noti dovrebbe aver guadagnato abbastanza nella sua carriera però guadagnare non significa nulla se non si sa spendere i soldi o comunque non si sa conservare quindi questo è un altro aspetto in cui effettivamente la questione economica oltre a quella appunto citata motivazionale entra in gioco come la valuti anche tu insomma in base anche a quello BJ Penn è lo stesso uomo che si leccava il sangue dai guantini il sangue di Daddy Joe Stevenson dopo averlo battuto quindi qualcosa di più che è animalesco in quest'uomo ci deve essere è assolutamente è stato un fighter eccezionale nella sua carriera cioè di 14 sconfitte che sono nel suo palmaresso lui è stato finalizzato solo 5 volte 3 delle quali nell'ultimo periodo quindi nell'ultimo contratto con UFC ha combattuto in 3 categorie di peso diversa ha conquistato titoli in 2 categorie di peso diversa in UFC ha battuto atleti che erano praticamente il doppio di lui ha combattuto contro l'Ioto Magida nel lontanissimo 2005 è stato quello che si può definire veramente un'icona delle prime MMA della prima generazione di MMA o forse diciamo della 1.5 ecco fra la prima e la seconda generazione di MMA sicuramente BJ Penn è un patrimonio sicuramente però quello che stiamo vedendo adesso in gabbia non è lo stesso fighter che aveva combattuto nel 2011 con Nick Diaz pur perdendo non è lo stesso fighter che perse con Rory McDonald è triste è quasi triste ecco vederlo così effettivamente la domanda del nostro follower ecco è assolutamente adeguata cioè l'unica motivazione che può venire in mente a una persona sana di mente una persona tra virgolette quella che si può considerare ecco la normalità viene da chiedere se abbia così tanto bisogno di soldi ma invece no effettivamente io credo sia una questione più di spirito ecco di penne un po' per tenersi lontano dai guai come dicevi tu prima Stefano un po' anche per sfogare appunto quello spirito combattivo però nell'ultimo periodo non ne ha veramente azzeccata uno vederlo così in gabbia è veramente triste certo e in chiusura insomma anche su questo evento discorsi ovviamente con risvolti meno tragici per quanto riguarda l'extrarrabile ma abbastanza simili rispetto a quelli che sono stati fatti sui vari brasiliani in specifico BJ Penn riguarda anche Antonio Rogerio Nogueira che è stato nettamente sconfitto con un montante che l'ha steso dopo due minuti nel primo round contro Ryan Spen anche qui insomma viene male a parlare male di chi vince in questa maniera perché sembra anche il rispetto a Spen e agli altri trottatori insomma che hanno vinto contro questi fighter però quello che fa più notizia è appunto il netto calo declino insomma di questi fighter che molto probabilmente insomma per lo meno ce l'auguriamo per la loro futura salute magari chiuderanno qui o comunque chiuderanno a breve il loro percorso nelle MMA comunque percorso nel quale hanno costruito veramente tanto per sé e comunque per il movimento dell'MMA in generale io direi di passare all'altra card dell'evento del weekend altra card di un certo ridievo in contemporaneo con quello di UFC parlando di Bellator 221 che si è disputata nell'Illinois alla Ossay Tarina abbiamo avuto qui due brasiliani che hanno regalato insomma delle gioie ai loro connazionali partendo nello specifico dal main event da Patricio Feire Pitbull uno dei due fratelli Pitbull che ha sconfitto dopo un minuto dopo solo un minuto nel primo round Michael Chandler l'ha battuto praticamente al primo vero e proprio ingaggio tra i due con Chandler che tenta il primo affondo Patricio Feire che lo crocia con un destro all'altezza del orecchio dietro l'orecchio proprio ai limiti diciamo della regolarità perlomeno insomma non propriamente detto la nuca comunque in un punto letale Chandler ha patito il colpo è rimasto a terra successivamente Ferrer non si è fatto perdere l'occasione per riempirlo di ground and pound da prendendogli la schiena insomma da top position le non risposte a questi colpi di Chandler hanno indotto l'arbitro se non ricordo male che Donald a interrompere il match Chandler poi si è rialzato ha dato segno di poter essere pronto ricordava molto questa situazione quella tra Seudo e Dillashaw quando l'arbitro si trova di fronte un fighter in un contesto ovviamente di match titolate in cui magari si tende un po' da passare insomma la soglia della insomma della severità insomma di determinati interventi per permettere lo spettacolo insomma dei match di andare avanti e quando si trova di fronte a una situazione del genere l'arbitro insomma deve decidere su una situazione molto delicata in poco tempo e siccome la prima istruzione dell'arbitro è safety first insomma pensare prima alla sicurezza anche in una situazione in cui si tende ad essere meno severi in determinate situazioni appunto per l'importanza dell'impegno è molto facile criticarlo dopo vedendo Chandler arrabbiato giustamente per lo stop però non me la sentirei personalmente di prendermela troppo con l'abito credo che abbia fatto alla fine comunque la decisione giusta e anche lo stesso Chandler comunque nel post match ha riconosciuto il fatto che questi match insomma match del genere con finali abbastanza limite li ha vinti questa volta li ha persi fa parte del gioco e si riparte una valutazione sul finale e eventualmente sulla prestazione abbastanza breve insomma non c'è stato molto di cui discutere però qualche cosa sicuramente ti ha colpito dal punto di vista tecnico Giovanni ma io Pitbull Freire e Patricio in questo caso perché il fratello Patricio non mi ha mai tanto stimolato però Patricio lo seguo con molta attenzione lo seguo praticamente da quando è in Bellator quindi adesso sono nove anni che lui è in Bellator io un po' dopo dai match con John Warren con Wilson Race per intenderci è un fighter che mi è sempre piaciuto assolutamente per ricollegarci al discorso che facevamo l'altra volta del livello UFC ecco Freire è sicuramente un fighter da livello UFC sia nei featherweight nei pesi piuma che pare aver dimostrato anche nei pesi leggeri perché seppur con un match un po' alla Conor McGregor se è possibile si è ritrovato con i relativi paragoni giustamente senza voler togliere niente a nessuno si è trovato praticamente con un match nei pesi leggeri campione di categoria adesso bisognerà vedere perché lui ha intenzione a quanto ho capito io di difendere entrambe le cinture quindi si parla un fighter nella storia di Bellator dopo Van Bader essere doppio campione in questo caso featherweight e lightweight sì esatto è un fighter di livello assoluto di livello elitario le sue vittorie il suo palmarès comunque in carriera lo dimostrano non è mai stato finalizzato se non da Benson Henderson a causa di un infortunio che ha avuto Pitbull alla gamba non saprei non saprei cosa dire di più cioè è uno di quelli che se si mangia se si mangiano MMA si deve conoscere assolutamente assolutamente non ha lasciato spazio a tanti dibattiti a questo match oggettivamente ha tecnicamente ha preso le distanze sin da subito lui si è si è abbassato sulle gambe nonostante fosse già più basso del suo avversario di Chandler forse più piccolo fisicamente si è presentato piegato sulle gambe secondo me per provare appunto un assalto frontale che poi gli si è riuscito al primo tentativo non so se sia frutto di una combinazione casuale io non credo al caso scusando il gioco di parole in questi casi qui però penso che Chandler si sia mantenuto più in linea più retta col corpo per tentare di rientrare col counter striking però al primo colpo è stato raggiunto dietro l'orecchio secondo me per un attimo è stato out poi si è ripreso quasi subito cioè lui è stato probabilmente messo KO con un pugno in ground and pound risvegliato col secondo sono cose che possono capitare certo e dicevamo altro fighter brasiliano che ha regalato gioie ai suoi connazionali nel vinto belletto è stato Douglas Lima che avanza nel torneo welter di bellator sconfiggendo Michael Page con una combinazione meravigliosa al secondo round dopo 35 secondi nel primo round Michael Page ovviamente fa il Michael Page cerca insomma con il suo stile abbastanza poco ortodosso di ridurre la distanza cominciare a mettere insomma assaggiare insomma i colpi nei confronti del brasiliano il brasiliano che non si scompone di fronte a uno stile senza con veramente pochi punti di riferimento quale è appunto quello del britannico MVP a un certo punto la contesa si sviluppa a terra e Lima viene ben neutralizzato perlomeno solo dal punto di vista difensivo da parte di Michael Page che gli blocca i polsi a terra impedendoli di sviluppare se non per un brevissimo tratto verso la fine del primo round un po' di grande pod comunque qualche soluzione dalla top position guadagnata dal brasiliano nel secondo round diciamo appunto invece il capolavoro di Douglas Lima calcio al polpaccio destro scusate calcio destro al polpaccio sinistro che fa perdere l'equilibrio al britannico e con perfetto tempismo un montante che spiora appena quasi l'incrocio esatto sembra quasi che lo spiori ma in realtà è un colpo che appare leggero ma in realtà è letale per il punto in cui l'ha preso perché l'ha preso pienamente nel mento che spegne la luce a Michael Van Dampeach e appunto permette ad Douglas Lima di avanzare nel torneo si vedrà appunto chi poi affronterà uno tra Neiman Gracie e Roy Mcdonald lui ha già detto se fosse per me preferirei affrontare Roy Mcdonald perché ha un conto in sospeso e non si valuta magari un match da 5 minuti e 35 secondi perché può non dare punti di riferimento però questo Douglas Lima è veramente affamato e può creare problemi tanto Neiman Gracie ma soprattutto a Roy Mcdonald ma questo è io l'ho sempre sostenuto ho quasi una forma di venerazione ecco per per Lima che è ben lontano dal fratello Diego che compete appunto in UFC secondo me lui è totalmente di un altro livello lui in UFC ci starebbe benissimo è assolutamente un atleta d'elite un fighter d'elite è bravissimo in termini di stand up ha una Muay Thai fantastica applicata alle MMA e lo ha dimostrato con questo KO con cui magari si è reso famoso ancora più famoso proprio per il fatto di aver sconfitto di aver inflitto la prima sconfitta in carriera a Michael Benon Page che poi ha detto se avessi saputo che avrei dovuto perdere con qualcuno avrei preferito appunto fosse lui ecco Lima è un atleta fantastico secondo me è completo riesce ad esprimere un grandissimo livello di lotta a terra e ancora di più in fase di stand up in piedi vanta due vittorie su Andrei Koreshkov nell'ultimo periodo appunto è stato fermato soltanto da Rory McDonald è stato sconfitto da Ben Askren prima in carriera però sempre per decisione a mio avviso sì se potessi scegliere che match vedere anch'io sceglierei sicuramente un rematch contro Rory McDonald anche perché questo Rory sembra essere un fighter diverso da quello precedente io non so se riuscirebbe ad oggi a tenere altri cinque round con Douglas Lee ma almeno alla luce di quella che è stata l'ultima prestazione di Rory ma comunque Neyman Gracie è un signor fighter e si giocherà anche lui la possibilità di arrivare nella finale del torneo e di diventare quindi campione perché chi esce da questo torneo è comunque il campione dei pesi welter chi vivrà vedrà vinca il migliore sicuramente assolutamente tenendo conto riferimento a Rory McDonald il modo in cui ha ridotto Rory McDonald nella sconfitta pure nella sconfitta rendendo la gamba una zampogna a furia di calci che ha rifilato prendo una domanda che ci è stata fatta in riferimento a Bellator e nello specifico a MVP di Giovanni Levi che ci chiede se secondo noi MVP potrà competere contro i migliori potrà veramente competere contro i migliori della categoria e quale sarà il suo futuro dopo la sconfitta contro Dima direi questo match per i relativi pochi episodi e la sua relativa breve durata magari non ci ha dato una risposta definitiva però ce l'ha data una risposta al momento sulla possibilità di MVP di competere contro i migliori della categoria Lima dicevi anche tu e sono con l'accordo può essere tranquillamente un top 15 se non direttore un top 10 in UFC o comunque nei ranking mondiali omnicomprensivi della categoria di peso quindi in questo momento direi di no c'è da dire che il suo stile rimane rimarrà sempre un enigma per la maggior parte dei fighter e questo comunque gli permetterà di rientrare a un certo livello non credo che crollerà del tutto dopo questa sconfitta anche qui insomma vedremo insomma il tempo ci dirà se sarà vera questa cosa o meno per quanto riguarda il suo futuro presumo che Bellator che è una promotion insomma abbastanza generosa insomma nel suo matchmaking per determinati fighter che insomma che le interessano gli darà successivamente un match abbastanza agevole in teoria per ripartire subito in quarta provo a pensare magari l'ha avuto lì magari un match contro Raymond Daniels che insomma ha impressionato lo ha battuto nella kickboxing già è appunto magari ci può stare anche questo match considerato appunto che Raymond Daniels non credo abbia un grandissimo futuro dell'MMA magari questo tipo di sfida lo può stimolare in modo particolare potrebbe accettare una sfida del genere e nel frattempo non so per colmare certi gap probabilmente in base soprattutto a quello che si è visto contro lì ma l'idea è che la possibilità di aggiungere qualche arma in più nella lotta a terra nel senso che MVP non ha necessariamente sfigurato insomma si è difeso bene non ha dimostrato di avere dei contrattacchi insomma un conto è difendersi bloccare il posto e un conto è magari prendere col braccio e cominciare a lavorare su qualcosa forse è questo che basandosi su quello che abbiamo visto contro lì ma può quello su cui deve lavorare MVP eventualmente per ritentare la scalata verso i pianiati a categoria cosa ne pensi? Ma credo che intanto secondo me può anche competere con qualche atleta d'elite ecco che sia tipicamente uno striker anche perché come hai giustamente detto tu è un enigma totale ma lo è stato anche per Douglas Lima per lunga parte dell'incontro cioè Lima di solito non passa cinque minuti a tentare di trovare le misure di un avversario lo fa prima mentre il primo round è stato tutto praticamente di Michael Page a parte le battute finali appunto del takedown non appena comunque ha dato riferimento ha preso il marchio di fabbrica il low kick di Douglas Lima che poi ha preso il tempo l'ha inseguito con quel montante è stato un capolavoro stilistico secondo me io credo che Page abbia un buon futuro se viene non mi piace dire spinto però se viene reinserito con un match giusto e magari poi cominciare a riprendere la sua scalata anche perché Paul Daly comunque è un avversario di tutto rispetto magari non ha fatto la prestazione migliore della sua carriera contro di lui però lo aveva battuto poi Douglas Lima comunque in Bellator è sicuramente un top 3 nella categoria dei pesi welter quindi credo abbia già sfiorato appunto l'elite e penso che può avere le armi per sconfiggerne qualcuno poi sicuramente c'è molto da lavorare sono sicuro che lo farà a me piace mi piace discretamente come stile a livello personale non mi pronuncio può essere che questa sconfitta gli avrà fatto più bene che male quindi vedremo come rientrerà il fighter invece che ha proseguito il suo percorso in salita insomma nella sua categoria di peso specifica featherweight è stato AJ McKee che ha portato a casa una decisione unanime contro un ex campione il Bellator e un veterano anche se da tempo fermo per tutta una serie di se non ricordo male di problemi fisici Pat Curran decisione unanime per 30-27 30-27 30-26 vittoria potrebbe essere volendo trovare un paragone calcistico magari un 1-0 per AJ McKee vittoria arrivata l'importante era quello ha fatto il suo magari non ha impressionato del tutto un match con relativa poca azione con pochi ingaggi ci sono stati insomma anche i fischi del pubblico AJ McKee mi ha dato un po' d'impressione di dare molto rispetto di rispettare molto Pat Curran e quindi di non attaccarlo direttamente dall'altro lato Pat Curran mi ha dato l'impressione di forse avere un po' di quella che si definisce ring rust insomma una certa difficoltà a ingaggiare per una certa disabitudine o comunque anche da parte sua insomma per rispetto per un giovane emergente AJ McKee comunque McKee alla fine ha fatto il suo e ha portato a casa la contesa si tiene il risultato magari sulla prestazione lavoriamo la pensi anche tu così oppure comunque dai il tuo giudizio positivo anche sulla prestazione AJ McKee ma a me è sembrata discretamente matura comunque Carran è un è un veterano di tutto rispetto vanta vittorie comunque su su fighter che hanno scritto la storia dello sport e comunque va considerato un veterano alla alla solo età di 31 anni in Bellator detiene delle ottime vittorie come quella su Daniel Strauss e anche su Patricio Freire ha sempre preso parte alla competizione nel al suo massimo livello ecco io penso che si deve tenere bene il risultato e lavorare comunque sulle future prestazioni perché il futuro secondo me è già scritto quello di AJ McKee è quello di entrare fra i grandi assolutamente sì ha comunque una mentalità ambiziosa ma non insomma molto come si dice in inglese cocchi no molto arrogante perlomeno esatto da e questo è un bene e questo è un bene insomma certo assolutamente forse si vedrà appunto se il fatto di essere in un ambiente familiare insomma la palestra body shop del padre McKee di McKee padre potrà essere Antonio Mandingo Antonio Mandingo potrà essere un vantaggio nel lungo termine però vedremo e tra l'altro cosa forse un matchmaking del futuro in Bellator Aaron Pico si è trasferito recentemente da body shop ha lasciato il team e si è trasferito a Jackson Wink insomma nel lungo termine quest'idea AJ McKee contro Aaron Pico sicuramente insomma è la direzione salva appunto gravi incidenti di percorso da una parte e dall'altra la direzione verso la quale insomma la categoria featherweight di Bellator si andrà esatto nel futuro per quanto riguarda gli altri due match nella main card citazione veloce e positiva per quanto riguarda T1 Claxton anche lui nella categoria featherweight prestazione assolutamente dominante impressionante magari insomma facendo un po' la tare rispetto all'opposizione offerta da James Bennett che non è sembrata proprio irresistibile però da parte sua T1 Claxton ha fatto il suo ottimamente soprattutto con il wrestling e con il lavoro a terra con tantissimo guard and pound che di fatto poi ha portato alla conclusione del match al terzo round dopo due minuti e nove secondi per quanto riguarda invece il match di Jack Hager e TJ Jones io andrei direttamente alla domanda di Fabio Mousset senza entrare nello specifico di un match che sostanzialmente non aveva storia dal way in in poi meno male Fabio Mousset appunto che ci chiede vorrei sapere se avete percepito anche voi l'intenzione di Bellator di costruire un personaggio attorno a Jake Hager esagerando anche un po' magari per attirare una fette di pubblico preveniente dal pro wrestling allora io farei un attimo un inciso conosco conosciamo anche Fabio e facciamo veramente in maniera amorevole un inciso un po' critico su questo concetto delle promotion insomma del peso delle promotion nei determinati comportamenti dei fighter e fino a quanto si estende nel senso ovviamente lo dice il nome UFC Bellator e tutte le altre sono promotion quindi devono promuovere e quindi devono assolutamente indirizzare la narrativa insomma di quanto succede nella gabbia e quanto succede dopo quello che succede nella gabbia in una certa direzione ovviamente determinati messaggi che vengono lasciati dai video promozionali indirizzi che vengono dati ai fighter di esagerare a certe situazioni esistono ed è normale che esistano però quest'idea che a volte sento soprattutto per fighter che vengono considerati poco promosse con poca promotion alle loro spalle questo fighter non lo promuovono mai questo fighter non lo promuovono mai le promotion arrivano fino a un certo punto ciò che manca poi lo devono mettere i fighter stessi e certe situazioni certe cose anche imbarazzanti o comunque di un certo successo invece che i fighter ci propongono insomma magari nei commenti pre e post match in realtà sono loro responsabilità insomma non esiste quest'idea che le promotion controllano tutto quello come dei pupari tutto quello che succede dentro e fuori dalla gabbia molto di quello che vediamo con percentuali che possono essere 50-50 ma possono anche 60-40 sono suddivise sia tra le promotion sia tra i fighter quindi quest'idea insomma di queste promotion che decidono il destino del successo dei fighter è qualcosa che non esiste non è mai esistito nell'MMA né determinato nel caso citato nel pro wrestling neanche nella box insomma e entrando appunto nello specifico di Jack Hager io non credo che sia stata una direttiva da parte di Bellator quella di innanzitutto in questo finale un po' sporco diciamo da parte di Jack Hager che ha trattenuto l'arm triangle choke oltre insomma le istruzioni dell'abito di separarlo non credo che gli sia stato detto da Bellator e neanche che lui l'abbia fatto propriamente apposta credo che sinceramente sia stato un equivoco insomma da parte di un fighter che comunque è debuttante insomma è sul secondo match ma è come se fosse il primo insomma non ha assolutamente nessuna esperienza è un caso abbastanza simile anche a quello di Greg Hardy in UFC e non credo neanche che gli sia stata data una istruzione diretta nell'avere quella reazione con quel promo imbarazzante in cui diceva di essere talmente pieno preso dall'emozione di avere una reazione cioè una roba veramente imbarazzante veramente non credo che gli sia stata questa data questa direzione questo ordine di comportarsi in questo modo credo che lui insomma consumato dalla sua esperienza del pro wrestling abbia colto insomma il senso dell'umore della stanza per così dire nello specifico dell'arena e da consumato pro wrestler comunque da chi ha fatto parte di quel business per molto tempo ha cercato insomma di attirare subito di sfruttare quell'attenzione negativa diventando un po' il cattivo della situazione insomma credo che sia stata una cosa istintiva che ovviamente ha bello a far piacere ma non credo che ci sia stata un'intenzione un piano specifico credo che questa situazione sia stata abbastanza fortuita e lui credo che abbia cercato di sfruttare al meglio quanto gli è stato offerto insomma dallo sviluppo degli eventi e di fatto ci sta anche che faccia così nel senso che comunque stiamo parlando di un fighter che ha 36 anni entra nello sport insomma in età certa avanzata difficilmente insomma lo vedremo probabilmente tra i primi 10 in una dei ranking mondiali difficilmente lo vedremo a combattere per il titolo magari in Bellator sì ma sicuramente non in UFC insomma i motivi di interesse per la presenza di Jake Hager sono abbastanza limitati e tutto quanto insomma possa contribuire insomma ad aggiungere interesse a questo fighter eventualmente anche questo nome di cattivo dal suo punto di vista non può che fare brodo insomma altrimenti è un esperimento abbastanza sterile perché non stiamo parlando di un prospetto quale era stato comunque in un certo periodo Lesnar insomma per fare un punto di riferimento è forse probabilmente una via di mezzo tra quello che può essere insomma lo Zenith e il Nadir che possono essere rappresentati da Lesnar da un lato e si empanca dall'altro lui sta in questa via di mezzo e credo che la sua massima aspirazione a questo punto possa essere una sorta di Bobby Lashley ultima cosa chiusa sul aspetto del pubblico proveniente al pro wrestling non voglio fare rappresentante dell'universo mondo dei appassionati di pro wrestling perché pur essendo un fan anche abbastanza da smart core però non rappresento di rappresentare l'universo mondo detto questo posso assicurare che Jack Hager Jack Swagger come era noto in WWE non è sicuramente uno dei restri più noti nella scena mondiale tra WWE e anche indipendenti insomma abbastanza è un nome di contorno quindi non credo che attirerà tantissimo interesse non percepisco seguendo insomma vari canali di fan tutto il resto tra Twitter tutto il resto un grandissimo interesse da parte dei appassionati di wrestling per la carriera attuale di Jack Hager altrimenti noto come Jack Swagger se tu non hai altro da aggiungere insomma su Bellator direi di passare alla Q&A insomma di chiudere tu che ne dici Giovanni sì sì perfetto perfetto allora passiamo alla domanda sempre di Fabio Museta che lui è declinato in ottica UFC mi permetto di allargarla magari in senso generale tenendo UFC e Bellator visto che abbiamo parlato di due fighter brasiliani insomma dei protagonisti nella carta di Bellator e Fabio Museta ci chiede vista da The Buckle dei vecchi brasiliani in uno specifico in UFC non pensate che ci sia un vuoto generazionale alle loro spalle ovvero che le nuove leve brasiliane non siano all'altezza di mostri sacri come Aldo e Anderson Silva e che non siano in grado di prendere per niente copo da eredità io partirei un attimo da un dato statistico citavo prima il Tuff of Brazil io ho avuto modo nell'ultimo anno e mezzo di riguardarmi di vedermi in realtà per la prima volta le quattro stagioni di Tuff of Brazil e alla vista di questa domanda sono andato a rivedermi insomma su Wikipedia i vari nomi che si erano succeduti in quello show che ha dato comunque in un certo senso insomma un segno dell'alta popolarità della UFC e in generale in senso generale MMA in Brasile nel insomma fine anni verso la seconda metà degli anni 2000 verso il 2010 diciamo 2010-2012 quegli anni di alla fine scorrendo i nomi sono stati prodotti sono usciti fuori da questo show per lo più una marea di cosiddetti cosiddetti che si inferirebbero beat carder o al massimo gatekeeper insomma penso Larry Trinaldo Pepey Ferreira Sergio Corais che appunto abbiamo visto a UFC 237 Leonardo Santos Cardesapato Carlos Juniors Wardley Alves Roger De Lima Miranda insomma fighter che arrivano fino a un certo punto per così dire pericolosi magari per un emergente ma una volta superati poi non lo rivedrai più insomma nella categoria dei contender diciamo nei piani dei contender il contender vero e proprio comunque assolutamente necessario qualcuno è stato abbozzato da queste stagioni penso peraltro a un fighter che non è neanche brasiliano ma argentino a Santiago Ponzinibbio Paolo Costa che appunto vedremo in un certo senso la prova del 9 contro io e Romero prima o poi e a Tiago Santos Tiago Smarreta Santos che invece appunto avrà la prova massima per ogni fighter UFC contro John Jones e quella è assolutamente una prova del 18 più che del 9 ha raggiunto il boss del gioco praticamente assolutamente quindi partirei da questo aspetto insomma per dire come insomma una certa popolarità della UFC e dell'MMA appunto in generale alla fine non ha prodotto grande rinità rispetto ai grandi campioni che si sono visti invece in precedenza nelle prime fasi di esistenza della UFC o in altre esperienze pensiamo per esempio ai campioni del Pride io butto lì due ipotesi e poi Giovanni mi dici cosa ne pensi eventualmente che cosa ti ispira insomma questa domanda in termini di ragionamenti direi che appunto nonostante appunto la maggiore popolarità della UFC dello sport in generale nel Brasile alla fine gli atleti che sono stati introdotti a questo sport in conseguenza di ciò non hanno avuto meno talento naturale insomma è stata una questione generazionale proprio di talenti naturali saranno stati di più i fighter ma sono stati paradossalmente molti meno i talenti che hanno avuto insomma i fighter con quel talento naturale paragonabile a quello della generazione precedente e credo altro aspetto altre ipotesi collaterale o magari principale è dovuto al fatto che se in una determinata era dell'MMA lo standard di allenamento delle preparazioni di molti fighter brasiliani condotte per lo più in loco era adeguata rispetto alla corrente allo zeitgeist dell'MMA in quel momento mano a mano invece il mondo gli Stati Uniti o penso anche ad altre regioni del mondo insomma zone del mondo Europa ultimamente Australia e Nova Zelanda è andata avanti o comunque ha seguito un certo percorso mentre invece il Brasile le palestre brasiliane sono rimaste un pochino indietro e questo ha danneggiato lo sviluppo di molti fighter che magari in un altro contesto avrebbero potuto migliorare un po' di più penso per esempio per fare un esempio concreto lo stesso Santos Teagos Marietta Santos da quando è all'ETT ha costruito diciamo questo percorso che lo porterà appunto ad affrontare quello che viene indicato da Monti come il greatest of all time John Jones l'unica luce di salvezza in tutto questo è stata data nello specifico da donne di cui abbiamo già parlato la Andrade la Nunez e la Gadeia e anche qui però c'è da tenere conto il fatto che appartengono comunque la Cyborg la Cyborg Cyborg forse già fa parte di una generazione precedente però magari si potremmo tenere anche lei e lì c'è da tenere conto per il fatto che ancora oggi sebbene ci siano grandissimi progressi e la situazione non potrà che migliorare comunque le categorie femminili hanno minore concorrenza rispetto con i maschili è inevitabile cioè ci sono meno talenti cioè c'è ancora un gap sia in termini numerici sia in termini qualitativi che le MMA femminili devono ancora colmare con i maschili messo tutta questa serie di elementi cosa coglie di interesse tuo cosa potresti aggiungere a questo discorso che è molto interessante ed è molto complesso tenendo conto anche appunto dei fighter brasiliani di Bellator che in Bellator stanno avendo successo ma sì infatti mi vengono alla mente proprio i vari Douglas Lima e in questo momento Marlon Moraes come fighter appunto d'elite proveniente dal Brasile nelle categorie maschili perché secondo me hai perfettamente ragione quando dici che le qualità insite le qualità che la natura comunque di cui la natura fornisce un atleta siano fondamentali in tal senso e che quindi appunto il discorso sui talenti naturali sia perfettamente quello che penso anch'io ecco Anderson Silva è uno per dirne uno è il migliore giustamente fra i fighter brasiliani con tutta probabilità Minotauro Nogueira secondo me il fatto che sì le palestre brasiliane non si può dire diversamente magari non si siano modernizzate lo dà da pensare il fatto che nemmeno la generazione scorsa non andando lontano fino a cinque anni fa l'elite nelle categorie di peso più basse era rappresentata da fighter anche da fighter come Iosealdo e Renan Barrao poi questi siano anche andati a cadere giustamente nulla dura per sempre questo è anche vero in termini qualitativi io Iosealdo probabilmente ma anche Renan Barrao che vinse il titolo dei pesi Bantam fino a quel momento almeno cioè ve li ricordo come fighter assolutamente d'elite ad oggi effettivamente ne contiamo numericamente un quantitativo molto minore ecco e mi viene da pensare appunto a Moraes anche a Tiago Marreta perché no raggiungere comunque quel tipo di risultati in una categoria che è quella dei massimi leggeri non è sicuramente facile secondo me è un fighter ecco che non è a livello di quelli nominati appunto però è davanti alla più grande possibilità della sua carriera e questo potrebbe cambiare sicuramente quello che dirà la sua legacy poi alla fine della stessa quindi c'è da vedere sono d'accordo con te quando dici che comunque numericamente c'è proprio una qualità inferiore rispetto al passato nei fighter brasiliani assolutamente questo mi piacerebbe insomma che chi ci ascoltasse magari sulla pagina facebook ci desse un commento perché è un argomento molto interessante ed è difficile dare risposte precise se avete un'opinione in particolare saremmo molto curiosi di saperla l'ultima domanda prima di chiudere è sempre di Fabio Mussetta che ci chiede qualche parola su Ray Cooper the third terzo ragazzo che combatte i PFL nonostante qualche sconfitta di top sicuramente ha un talento da tenere d'occhio visto le sue caratteristiche tecniche che al grande pubblico potrebbe piacere molto io personalmente in generale insomma dei fighter PFL e nello specifico lui non sono molto familiare per quello che ho visto tendo a condividere insomma un giudizio positivo espresso da Fabio sicuramente un fighter gioca molto insomma sulla sua perizia nello striking con un'ottima potenza insomma con una potenza da rispettare abbastanza giovane insomma 25 anni ha l'aspetto il fatto che venga dalle Hawaii quindi questo gioco a suo favore perlomeno in termini di fanbase o comunque di interesse che può attirare questo fattore non è neanche così male nell'ambito del grappling anche se è chiaramente un aspetto inferiore insomma del suo game preso complessivamente o qualche cosa su cui può fare dei progressi in generale basandomi su quello che ho visto può ambire a essere quello che si può definire un action fighter magari con maggiore successo in Bellator rispetto a UFC però eventualmente mettendo sarebbe curioso appunto vederlo in questi contesti vedere se possa sulla forza delle sue caratteristiche fisiche e delle sue caratteristiche tecniche comunque ci sono vedere quanta strada possa fare tu Giovanni come lo giudichi io sono ci sono rimasi abbastanza sorpreso dalle sue due vittorie su Jake Shields poi per il resto è un buon fighter è sicuramente è più che un buon fighter però magari appunto come è stato già detto ha fallito magari quelle che erano le occasioni più importanti in carriera per poi catapultarsi appunto nell'elite di categoria però sì sì anch'io sono sicuro che ci arriverà un buon futuro ecco secondo me sì la sconfitta diciamo quella che ha pesato di più quella contro Magomed Magomed Kerimov appunto nella finale del torneo welterweight dell'anno scorso di PFL quella è stata forse la sconfitta che recentemente l'ho rallentato un pochino però insomma la possibilità per riprendere percorso in questa nuova stagione di PFL ci sono tutte direi appunto di avviarci a questo punto alla conclusione giusto un appunto insomma sul feed podcast ricordiamo siamo oltre che su youtube siamo anche adesso su apple podcast su spotify e su tune in quindi ci potete trovare insomma nei principali servizi ci potete anche sentire attraverso aggregatori come overcast e tutti gli altri basta prendere il feed direttamente anche dalla nostra pagina propriamente detta del podcast nel servizio podcast sulla nostra pagina facebook trovate tutti i link nello specifico nelle prossime settimane insomma in queste settimane oltre ad episodi attuali per così dire del podcast quelle legate insomma al temporale saranno caricati degli cosiddetti retro show insomma tutto l'archivio dei precedenti show di MMA Talks diciamo che è propriamente un processo tecnico insomma per ricostruire al completo l'archivio di Talks che non è completo neppure su youtube dove in realtà c'è la maggior parte dei podcast se li avete già sentiti non lo voglio sentire li tenete lì da parte se invece vi fa piacere o magari avete visto magari match relativi a quelli show che sono stati registrati volete sentire le opinioni all'epoca e magari farvi due risate se avete sentito dei giudizi transhan io ho avuto modo di sentirne qualcuno su alcuni fighter dico il peccato non dico il peccatore mi ha fatto un po' sorridere ma ovviamente ci sta uno non può prevedere il futuro sono cose comunque molto curiose da sentire degli show assolutamente godibili quindi se avete un po' di tempo e volete fare un viaggio nel tempo così dire vi consiglio assolutamente di ascoltarli se no li tenete da parte e non li ascoltate mai oppure anzi no ascoltatele che fate bene ad ascoltarli aumentate i nostri numeri vi ricordo appunto di lasciarci soprattutto su iTunes delle recensioni 5 stelle o anche meno se non vi piaciamo facci delle recensioni eventualmente delle critiche o complimenti che fanno sempre piacere quindi se qualsiasi esigenza o curiosità ovviamente potete contattarci sui nostri social vari facebook instagram twitter siamo a vostra disposizione Giovanni tu oggi giorno di registrazione hai pubblicato un interessante articolo sull'ultimo uomo di cosa parla e eventualmente ci vuoi anticipare su altri articoli comunque su cui sta lavorando ma sì questo parla di street fighting mi ero mi ero sentito con Daniele con il direttore di ultimo uomo quindi Daniele lo sia sì esatto avevo avevo visionato degli street fighting degli street fight scusate e lui mi aveva detto alla luce della vittoria comunque di di Masvidal che aveva combattuto contro Darren Till è stato in quel periodo che ho iniziato a scriverne se avevo voglia appunto ho risposto positivamente mi sono addentrato praticamente nel mondo dello street fighting che mi è sempre piaciuto di cui sono sempre stato da cui sono sempre stato affascinato ecco e quindi ho recuperato ovviamente quella che poi fondamentalmente la bibbia che coinvolge Kimbo Slice almeno per quello che riguarda l'ultimo periodo ecco ho recuperato qualche match di Jorge Masvidal e poi mi sono andato a ricercare anche qualcosa che non conoscevo che ho inserito all'interno del pezzo non tutti sono muto al street fight che è una definizione che poi spiego all'interno appunto dell'articolo leggetelo così lo capirete ed ho inserito diversi street fight che mi avevano colpito per uno o per un altro motivo ecco fra questi ve ne anticipo uno c'è la spaventosa rissa nel backstage del Pride fra Cristiano Marcello e Charles Bennett che è diventata più che famosa sui canali della red ecco esatto con la vantata stesa di Vanderlei Silva da parte di Charles Bennett entrata insomma negli annali degli aneddoti delle MMA quindi insomma sull'ultimo uomo potete trovare sull'ultimo uomo se vi viene più comodo su tutti i canali social Facebook e Twitter è stato condiviso l'articolo lo trovate lì perfetto allora vi ringraziamo per averci seguito continuate a seguire podcast a farci delle domande come vedete siamo alle sue posizioni per rispondervi da Stefano insomma vi saluto ciao ciao a tutti ciao a tutti anche da parte mia e al prossimo episodio con MMA Fox Podcast iscriviti al canale Grazie a tutti